Benvenuti al Sonderbach. Per ordine del Reich Führer, Heinrich Himmler, il comandante Kögel ha deciso di destinare 18 detenute per una casa speciale, le interessate facciano 5 passi avanti. Non capisco, chieditelo per te. Come? Oddio, tu stai zitta, chieditelo per te. Ma mi sembra di non vedere niente, ho come dei riadi. Non si sta così male. Ma ni limbs, ma pensi, si esse paura, per te. Non sono permforti, il comodo quello, ben spammas. Sono stori per te. Non si sto mai male. Coni e di cond legati gli muscoli. Ciao. 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 No! 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 No!